ciao amici bentrovati sul mio canale oggi sempre come vedete senza ottica e senza appoggio prove di tiro da 100 metri questa è la linea dei 100 metri questa è la jaguar e andiamo a vedere ora in tempo reale ovviamente dove è finita la freccia io ho messo ogni 20 metri queste strisce di carta bianca siamo a 80 ora 100 metri distanza assolutamente improponibile per queste mie ormai consolidate modalità di tiro in piedi dall'imbracciata senza ottica senza appoggio ma io ci provo lo stesso 100 metri che dal mio metro e 80 di statura copro in non meno di 115 120 passi siamo a 25 metri ora e ancora non vedo la freccia non beh eccola la rosso credo sia rosso sì rosso rosso esterno rosso esterno da 100 metri senza ottica e senza appoggio 100 100 metri siamo a che vi posso dire una quindicina di centimetri dalla crocetta questo è il bersaglio vita è che dire ottimo risultato ottimo risultato davvero un ottimo risultato da 100 metri ripeto senza ottica e senza appoggio rosso esterno un rosso esterno beh che dire sorprendente sempre questa mia jaguar che mi sta dando davvero tante soddisfazioni e niente spero che il video vi sia piaciuto ovviamente se vi va iscrivetevi al mio canale e vi auguro una buona domenica a tutti